Ok, aggiungiamo un goccio, un pezzo di cioccolato e tutto sarà pronto. Ciao, Wednesday! Che belle cose! Guarda, è niente un goccio e trasformerà tutto in cioccolato. Sono geniale! Sì, sì, però deve controllarsi. Wednesday, dammi, per favore, sono la tua unica amica. Cosa hai fatto? No, non ci risugga! Che ci sia una sfida, il cibo cioccolatoso contro quello reale. Andiamo! Cosa? Ma quante piume? Da dove si sono fuori? Interessante. Anche tu... Le uova sono identiche, però dobbiamo capire chi ha quelle vere e chi ha quelle cioccolatose. Ok, io posso provare. Ah, sì, io ho le uova cioccolatose. Ah, che meraviglia! All'interno ci sono le M&M's. Io adoro. Sì, è tutto bello, tranne che il colore era troppo buono. Wednesday, ferma! Posso io? Ok, vediamo com'è. No, che schifo! Io ho l'uovo vero, che schifo! Dai su, non piangere, Annie. Vabbè, succede nella vita. Wednesday, Wednesday, forse mi fai provare almeno un pezzettino. Non ci do l'uovo, ma ci do le M&M's. Grazie mille! L'hai sentita? C'è qualcuno là? Oh, che carino che è! Vieni qui, tesoro! Sono la tua mamma! Wednesday, guanda! Sì, è così carino! Sì, è carina! Però non è più carino del mio scorpione. Ok, vediamo chi va per prima. Ok, Wednesday! Oh, cosa? Sono degli ombretti. Dai su, provo, forse è cioccolatosa. C'è solamente un colore che mi piace, del nero. E io lo provo. Che schifo! Sono veri! E io ne ho identica, però qui tutti i colori sono belli tranne uno. Però non funziona. Ah, sì, ma perché forse è cioccolatosa. Sì, lo è! Che buono che... Agni, condivisi con me, per favore. Va bene, anche se... No, è troppo buono per condividere. E adesso ci darò una lezione. Disegno un make-up da paura. Buono, buono, buono! Sì, Wendt, che vuoi? Mamma! Che è questo mostro? Oh, sì, non mi aspettavo una cosa del genere, però... Sì, sono miei. Ok, vediamo... Chi ha il cioccolato e chi ha del cibo vero. Ma questo è il microfono? Vediamo, è di cioccolato? No, ma è vero! Ok, devo cantare qualcosa. Allora, Agni, la prima donna, è qui. Che terrore, che schifo! Ma non è tortura? Ok, pensavo che le mie orecchie non l'avrebbero sopportato. Non ce la faccio più, devo cantare! Agni, per favore, basta! Occhie, ma svegliata! Occhie, urla, lo sento all'inferno! Ma quando è che finirà? Cosa? Sono sorda? No, mi... Se è per maco, forza jazz, oppure hip-hop, oppure rock... Non ce la faccio più! Ah, io ho il microfono. Que buono che... È cioccolatoso? Mi piace. Ok, non posso fermarmi. Perché non me l'hai proposto subito? È molto più buono. Mi piace, sono felice. Ok. Ok. Vado. Mmm, sì, è un orso rosa. E poi è dolce. Ma è cioccolatoso. Ma allora, buon appetito. Io ho un orso molto buono, mi invidi? Perché dovrei invidiarti? È rosa, fa schifo. È buono! Ok, vediamo cosa ho io. Beh, un orso identico, però non è commestibile. Vabbè. Ma a cosa mi serve? Non mi serve a nulla. È solamente plastica rosa. Sembra così carina. Puoi giocare con lui. A me piace. E fa schifo. E fa schifo. Però, so cosa fare. Mano, porta, per favore. Sì, il mio scrigno. Grazie, mi ha salvato. Ecco, batti cinque. Ci vediamo a casa. E adesso ti faccio vedere cosa c'è. Qui c'è la vernice che io uso molto spesso quando vedo le cose che non sono nere. Grazie a queste vernice l'orso diventerà il più bello. No, dai, non rovinarlo. Dammelo. No, tu l'hai mangiato il tuo. Questo è mio. Posso fare quel cavolo che voglio. Ok, lo coloriamo. E poi aggiungiamo dei dettagli. Non resta che aggiungere... Guardate cosa. Bellissimo. No, dai, l'hai mostrato. Dai, su. Non farci caso. Questa, dai, su. Vediamo cosa hai. Un peperoncino rosso. Sì, dai. Ok, vediamo chi ha cosa. Io penso che il mio sia cioccolatoso. Anche se a me piacciono le cose piccanti. Agnel, perché sei felice? Apri il tuo coperchio. E lì ci aspetta il peperoncino. Agnel, io ho finito. Vai. Ok, sembra in acqua. Oh, no. Vado a fuoco. Devo avere qualcosa. Wenz, ma mi prendi in giro? Cosa? Ma tu mi... Ma devo... Cosa? Ma io sto male. Agnel, non posso neanche guardarci. Io ho la bocca che va in fiamma. Oh, no. Io non mi aspettavo una cosa del genere. E sono tutto qua da sporco. E ho la concentratura che è rovinata. Dai su, chiamo i pompieri. Dobbiamo salvare la nostra Enid. Quando finirà? Sai cosa fare, mano? No, è su. Aiutami, vado a fuoco. Ah, finalmente acqua. Sì, così meglio. Ok, mi sento molto meglio. Ciao, ciao, amico. Ok, non mangerò più il peperoncino. Ok, vediamo cosa vi aspetta. E comincia Wednesday. Una tomba. Che bello. Sembra bella. Che terrore. Ma cosa vuoi aprirla? Agnel, smettila. Uh, che bella questa mano. Ciao. Enid, guarda. Uh, che codarda che sei. Ok, posso farle uno scherzo. Enid, dai, apri gli occhi. Non toccarmi, mano. Uh, fai ridere. Dai, su, apri. Forse ci sono dei cugnellietti. No, una tomba. Non voglio aprirla. Dai, su, devi. Forse ci saranno delle farfalle. Che paura. Aspetta. Ma questo è cioccolato. Che bello. A me piace. Voglio provarlo. Sì, è troppo buono. No, non posso neanche fermarmi. Forse anch'io ho qualcosa cioccolatoso. Ok, devo provare lo scheletro. No, è vero. Wednesday, dai. Non essere triste. Vuoi provare? Dai, su. Grazie mille, Agnel. Con il piacere. Sì, buono. Guarda, è la mano. Uh, è un po' di piacere. Un gran uomo. Si è innamorato. Ah, che bello. Che tu ti sono felice. E noi andiamo avanti. Posso aprire? Sì, ok. Vediamo. Cosa? Un teschio? Ma è vero. Dai, su. Alzati. Guarda. Forse è cioccolatoso. Sì, è cioccolatoso. Sì, è cioccolatoso. Questo mi piace. Sì, dalle carse le dita. Posso mangiare un altro pezzettino. E un altro ancora. Uh, come lo mangi? Ok, vediamo cosa ho io. Ah, che male. Questo teschio è vero, ma è una bella cosa. Eh, Nick? No, no, Gwen. Non mangiarmi. Dammi il tuo teschio e ci lascerò in pace. Prendi quello che vuoi, però lasciami in pace. Sì, non lo sai tu, Gwen. Hai rubato il cioccolato. No, non è vero. Ma l'hai detto da sola.